Flussi turistici in ripresa ma ancora lontani dai livelli pre-covid. Nel 2021 la Sardegna è stata la regione italiana con la ripresa maggiore. Report di CNA incoraggiante. Ieri primo voto per il Quirinale con un nulla di fatto. Si va avanti oggi l'emozione per i due algheresi Paola De Jane e Michele Pais. Nuova casa per la Fuzza L'Alguero che giocherà le prossime partite casalinghi al Palamanchia. Sabato giallorossi in campo contro l'Oristanese per l'ultima diandata della Serie C1. Un saluto a tutti voi ben ritrovati telespettatori di Catalan TV. In primo piano oggi il turismo e il report del CNA Sardegna. Flussi in ripresa ma ancora lontani dai livelli pre-covid. Nel 2021 la Sardegna è stata la regione italiana con la ripresa maggiore. Tra gennaio e settembre 2021 nelle strutture di Cetive Sarde si sono registrate 9,6 milioni di presenze. Nel prossimo servizio i dati ma sentiamo poi anche le reazioni del presidente Solinas e dell'assessore al turismo. Nonostante nel biennio pandemico il comparto turistico sardo sia stato fortemente penalizzato dalle restrizioni necessarie a contenere la diffusione dell'epidemia, la Sardegna è comunque la regione italiana che ha avuto una ripresa migliore. Le ultime rilevazioni dell'Istat relative ai primi nove mesi del 2021 evidenziano infatti una dinamica dei flussi turistici in forte risalita. Tra gennaio e settembre 2021 nel complesso delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere Sarde si sono registrate 9,6 milioni di presenze, il 62,8% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, una crescita pari al triplo di quella registrata a livello nazionale. Da quanto si vince dal dossier CNA, nel 2021 le strutture ricettive Sarde hanno ospitato complessivamente ben il 4,1% delle presenze turistiche italiane, un valore che nel 2019 non andava oltre il 3,8%. Il turismo si pone dunque come il principale motore della ripresa dell'economia regionale con prospettive di ulteriore crescita. Il dossier del centro studi della CNA Sarde analizza l'incidenza della ripresa dell'attività turistica nel 2021 su un'economia regionale messa a dura prova dalla crisi sanitaria. Se nel corso del 2020 il PIL regionale aveva fatto registrare un calo a valori costanti del meno 9,6%, ben superiore a quello medio nazionale, le ultime stime della CNA pubblicate lo scorso dicembre indicano che il PIL regionale potrebbe aver registrato nel 2021 una crescita pari al più 4,1%, superiore a quella media delle regioni del mezzogiorno ma ben lontana da quanto atteso per il PIL nazionale. Valutando le aree di provenienza, la crescita riguardato sia il turismo domestico, che nei primi nove mesi del 2021 ha contato 1,85 milioni di presenze in più rispetto allo stesso periodo del 2020, sia i flussi stranieri con una crescita in valore assoluto sostanzialmente identica ma che in termini percentuali risulta davvero rilevante, più 131,8% contro il più 40,3% nazionale. Il persistere di difficoltà e incertezze nel raggiungere le destinazioni internazionali più rinomate ha indotto quote crescenti di vacanzieri nostrani a preferire destinazioni nazionali e tra tutte le regioni italiane la Sardegna sembra aver riscosso particolare successo. Se nel 2019 la Sardegna intercettava il 3,8% del totale nazionale delle presenze domestiche, nel 2021 questa quota è passata al 4,3%. Le presenze straniere, nonostante l'eccezionale incremento, restano sempre pari a circa la metà rispetto ai livelli per crisi, 3,3 milioni contro i 7 milioni dello stesso periodo 2019, un gap del 54%, sostanzialmente identico rispetto ai risultati nazionali. In definitiva, secondo il dossier CNA, in un orizzonte post-crisi sanitaria, l'attrattività della Sardegna come metà turistica potrebbe progressivamente consolidarsi. I dati forniti dall'indagine CNA sui flussi turistici del 2021 sono confortanti e confermano la bontà della strategia intrapresa dalla Giunta regionale. Abbiamo affrontato con coraggio e idee l'emergenza sanitaria che ha influito pesantemente anche sul settore turistico e grazie ai nostri progetti che insieme alla bellezza e all'attrattività della Sardegna hanno generato e promosso un'immagine positiva della nostra isola, abbiamo ottenuto importanti risultati. Lo ha detto il Presidente della Regione, Cristian Solina, scomentando il dossier del Centro Studi della Confederazione Nazionale Artigianato Sarda che ha evidenziato come nel 2021 i flussi turistici siano in ripresa, seppure ancora inferiori ai livelli pre-Covid, ma con una crescita tripla rispetto alla media nazionale. Secondo il dossier, tra gennaio e settembre 2021, nelle strutture ricettive Sarde si sono registrate 9,6 milioni di presenze, più 62,8% rispetto al 2020, più 22,3% rispetto al dato nazionale. Il turismo domestico ha contato 1,85 milioni di presenze in più rispetto al 2020, si parla di un più 41,2% contro il più 14,2% nazionale e inoltre il più 131,8% contro il più 40,3% italiano. Come evidenzia CNA, una crescita tripla rispetto a quella nazionale che ha premiato la Sardegna come regione italiana con la ripresa maggiore, ha sottolineato l'assessore regionale del turismo Gianni Chessa. Non è certo una casualità, i grandi eventi sportivi che abbiamo promosso senza sosta, le iniziative culturali che hanno valorizzato il patrimonio storico isolano, in particolare l'archeologia e la partecipazione alle fiere turistiche nazionali e internazionali hanno contribuito all'ampliamento dell'offerta turistica e anche alla gesta giornalizzazione dei flussi, rafforzando l'idea di un'isola sicura anche nell'era del periodo sanitario. Le iniziative della regione ovviamente non si fermano e puntano anche su altri segmenti come il turismo religioso e quello congressuale. L'isola intende recitare un ruolo da protagonista nel mercato turistico, numeri che infondono fiducia per il futuro e ci spronano a proseguire sulla strada intrapresa per far crescere e consolidare la competitività turistica della Sardegna, sempre più convinti che il turismo rappresenti un volano fondamentale per l'economia dell'isola. Dobbiamo farci trovare pronti per quando inevitabilmente l'emergenza sanitaria terminerà e la Sardegna potrà dimostrare la sua capacità attrattiva come meta turistica nazionale e internazionale, ha concluso l'esponente della Giunta Solinas. E noi abbiamo parlato della stagione non solo con Marco Testoni, amministratore della THM che gestisce ad Alghero l'hotel Riviera e l'hotel Soleado. In quest'ultima struttura, peraltro, si è deciso di scommettere tutto l'anno, anche grazie alla ristorazione. Marco Testoni, amministratore della THM Hotel che qui ad Alghero gestisce due strutture, il Soleado e anche il Riviera, ma non solo piazza di Alghero, anche altre piazze. Partiamo però dalla stagione 2021. Come è andata? Allora, la stagione 2021 è partita, come per tutti, con un grosso punto interrogativo, una scommessa, ma dobbiamo dire che l'abbiamo portata a casa e ci siamo salvati. Partita in ritardo, però i mesi di apertura, soprattutto sulla piazza di Alghero, sulle strutture Soleado e Riviera, i mesi luglio-agosto e anche a settembre, hanno fatto i record di quel mese, cioè paragonati agli stessi mesi degli anni pre-Covid, hanno fatto numeri maggiori, perlomeno nell'esperienza delle mie due strutture su Alghero. Le altre piazze sono, diciamo, quelle più vicine, la piazza di Castelsardo, dove abbiamo una struttura sul mare di una settantina di camere, che si chiama Domus Beach, è quella che parte ovviamente un po' in ritardo, perché più ci allontaniamo dai punti di sbarco, il nostro aeroporto, e più ovviamente diventano seconde scelte per i vacanzieri. Idem Bosa, che è un'altra piazza dove siamo presenti con una struttura che si chiama Isola Rossa, e poi la piazza di Orosei, dove abbiamo tre strutture, un hotel e un residence nel centro del paese, che sono il residence Marina Palace e l'hotel Baia Marina, e poi nella zona mare di Orosei, a Cala Liberotto, abbiamo un residence di circa 80 camere, che si chiama Residence Cala Liberotto. Stava però dicendo che Alghero è la piazza che ha risposto meglio. Assolutamente sì, e questo, diciamo, l'abbiamo discusso anche con i big del settore, il noto booking.com, che ha ovviamente una visione globale, ci siamo confrontati e mi hanno confermato che Alghero quest'anno è stata la regina della Sardegna, come numeri. Ritorniamo all'hotel Soleado, una scommessa, quella di aprire il ristorante al pubblico. Esatto, da quest'anno abbiamo di fatto aperto prima il ristorante dell'albergo, quando insomma eravamo tutti chiusi a inizio 2021, io con il mio partner Gianni Costantino, del ristorante dietro il carcere, abbiamo deciso di diffondere la parte ristorazione, quindi in questa bella location, abbiamo deciso di aprire al pubblico il ristorante, oltre che ovviamente offrire anche il servizio agli ospiti dell'albergo. E anche il ristorante ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo preposti. Non solo, il ristorante mi ha fatto prendere la decisione di mantenere aperto tutto l'anno l'hotel Soleado. Quindi noi siamo tuttora aperti, in gennaio, ovviamente i numeri non sono eccezionali, però il minimo di sussistenza di pagare gli stessi, non ci stiamo guadagnando niente, però stiamo facendo muovere la macchina, diamo lavoro ai dipendenti, non solo. Cosa abbiamo deciso di fare? Soprattutto con gli alberghi di Alghero, dove per non fare parti gelose fra il personale, i quattro mesi invernali, dove solitamente eravamo chiusi, li abbiamo divisi fra i due staff, quindi di fatto i due staff dei due alberghi rimangono fermi solo due mesi all'anno, perché si stanno alternando adesso qua al Soleado. Quindi fra hotel e ristorante stiamo dando lavoro a una cinquantina di famiglie, qua praticamente per tutto l'anno, dieci mesi all'anno barra tutto l'anno per alcuni. E allora Gianni Costantino, una scommessa diciamo che è andata sulla giusta strada, visto che l'amministratore Testoni parlava di questa scelta di portare il suo ristorante qui al Soleado. Assolutamente sì, fortunatamente è andata veramente molto bene come stagione, per noi che arriviamo da già 12 anni comunque di servizio dato a questa città attraverso il nostro ristorante chiamato Dietro il Carcere. Abbiamo avuto la fortuna, veramente lo dico anche pubblicamente, la grande fortuna di aver trovato il dottor Testoni attraverso l'HT Hotel che ci ha avuto la possibilità di poter inserire all'interno di una struttura ricettiva importante come l'hotel Soleado il nostro ristorante. Dunque il connubio è stato perfetto perché attraverso i servizi della ristorazione abbiamo potuto dare la possibilità all'esterno, al cliente esterno, di poter entrare all'interno dell'albergo, conoscere l'albergo e conoscere la nostra ristorazione e nello stesso tempo i clienti dell'albergo hanno potuto usufruire un ristorante all'interno dell'albergo. Stessa operazione verrà fatta su altre strutture? Assolutamente sì, questa è una bellissima notizia che il dottor Testoni mi ha comunicato due settimane fa, lo stesso prototipo proviamo a inserirlo e realizzarlo all'interno di un'altra struttura che è Sita Lubagno, sempre una struttura ricettiva come l'hotel Soleado e faremo la stessa identica cosa, saremo aperti al pubblico per i clienti di Castel Sardo, Lubagno e chi passa in quelle zone e nello stesso tempo daremo servizio anche ai clienti dell'albergo. Lasciamo la pagina dedicata al turismo, ieri invece il primo voto per eleggere il capo dello Stato che si è concluso con un nulla di fatto. A votare anche due algheresi, la deputata del Movimento 5 Stelle Paola Dejana e il presidente del Consiglio regionale Michele Paes. Entrambi hanno scritto le loro impressioni sui social. Oltre l'onore di sedermi in Parlamento, questa legislatura è stata ricca di avvenimenti storici importanti, alcuni belli, altri drammatici. Ricordo ancora la cerimonia per i cento anni dell'Aula di Montecitorio. Il tricolore, l'inno nazionale alla presenza delle maggiori cariche dello Stato, ha scritto Paola Dejana. Si sono susseguiti poi anche eventi nefasti, come la pandemia che ancora non molla la presa e che ha visto il Parlamento impegnato senza sosta negli innumerevoli provvedimenti per contrastare i disastrosi effetti sanitari, economici e sociali del Covid-19. Ora invece, ha proseguito l'onorevole del Movimento 5 Stelle, sono impegnata nello scrivere e vivere un altro pezzo di storia, l'elezione del nuovo capo dello Stato, un evento che si ripete ogni sette anni e che quindi non tutti i parlamentari possono vivere. Inoltre, pensare che sono la prima donna parlamentare algherese a votare il Presidente della Repubblica mi riempie ancora più di orgoglio. In questi momenti, ha scritto infine Paola Dejana, sono ancora più fiera di essere sarde e di essere algherese. Spero di portare sempre alto il nome della mia città, alla quale devo tutto. Avverto chiaramente il dovere istituzionale, l'obbligo morale, l'immensa gioia di rappresentare la Sardegna intera in uno dei momenti che segnerà la storia del nostro Paese, ha scritto invece Michele Paes, sempre sui social. Come Presidente del Consiglio regionale sono il garante di tutti coloro che siedono nei banchi dell'Aula e con questo spirito di grande responsabilità sono pronto per dare il mio contributo all'elezione del Presidente della Repubblica, con la Sardegna nel cuore e nell'interesse esclusivo di chi la abita. Tutti sanno quanto ami la Sardegna e Alghero, la mia città, che cerco di onorare costantemente e in ogni circostanza vorrei trasmettere soprattutto agli algheresi l'emozione che sto vivendo in queste ore. d'Algherese, sardo e italiano, con impegno onestà intellettuale, sarò chiamato a partecipare ad un passaggio importante per la nostra nazione, ha poi aggiunto Paes. Ogni mia scelta e decisione sarà ponderata e sempre ispirata ai valori di democrazia nel rispetto di chi ha combattuto per difenderla e di chi oggi si impegna concretamente per garantirle il futuro. Ed ora ci fermiamo, c'è la pausa per la pubblicità. A tra poco. Ritorniamo in studio, apriamo la seconda parte del nostro telegiornale con la situazione Covid. Ieri picco di decessi da Covid purtroppo in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore sono morte 10 persone. Nuovamente increscite i contagi, sono stati 1.224 i nuovi casi accertati sulla base di 2.807 persone testate e 19.883 tamponi processati con un tasso di positività del 6,1%. Stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 30 salgono invece di 4 in area medica, per un totale di 291 posti letto occupati da positivi. Sono invece 22.775 le persone in isolamento domiciliare. Ed ora ci spostiamo nella vicina borgata di Fertilia, dove la scorsa settimana sono stati eletti i nuovi consiglieri del Comitato di Quartiere Fertilia-Renosu. La situazione di emergenza dovuta alla condizione di pandemia che affligge la nazione, si legge nel comunicato del Comitato, ha reso necessario il ricorso ad elezioni svolte in doppia modalità, sia telematica che in presenza. Questa soluzione di emergenza è stata necessaria, come la DAD, per la scuola. I nuovi nove membri del Consiglio Direttivo sono Egle Ballarini, Elisabetta Boglioli, Giuseppe Cardi, Luca Rondoni, Alessandro Sorbara, Giovanni Roma, Maria Gabriella Laicinello, Luciano Solinas e Alessio Pasquino. Secondo quanto previsto dallo statuto del Comitato, sarà la Laicinello, in qualità di eletto più anziano, a organizzare la prima riunione del Comitato di Quartiere, nella quale sarà votato il nuovo Presidente e le altre figure di riferimento attese. Personalmente sono grato di aver ricoperto il ruolo di Presidente nella scorsa gestione e farò quanto possibile perché il prossimo Presidente possa garantire il miglior lavoro possibile per la comunità. Sono sicuro che l'attuale gruppo sia pienamente capace di ripensare le regole comuni con le quali lavorare, fiducioso che sarà ampiamente in grado di pensare un'organizzazione interna tale da non essere punto debole, ma punto di forza, scrive Rondoni. Sarà naturalmente una proposta che porterò in Consiglio e che nel caso venga accolta porterà ad un lavoro condiviso e partecipato della comunità di cittadini che ci ha sostenuto e che rappresentiamo. Nel frattempo, appena definiti gli incarichi interni, saranno ripresi tutti i contatti con gli assessori di riferimento, la Giunta e il Sindaco. Il lavoro, scrive, non si ferma. Ed ora lo sport. Il Palamanchia è la nuova casa della Fuzza all'Alghero. Ora c'è l'ufficialità della FIGICI, Lega Nazionale di Lettanti Sardegna, che nel suo ultimo comunicato ha notificato appunto la variazione della sede delle gare casalinghe della squadra allenata da mister Silvio Fenu. Con la ripresa del campionato regionale di calcio a 5, Serie C1, sospeso dallo scorso 5 gennaio a causa dell'aggravarsi della situazione pandemica, la Fuzza all'Alghero si trasferirà definitivamente nella struttura di Via Manca, nella quale già disputa i propri allenamenti. Il cambiamento di sede è stato reso possibile da alcuni lavori di adeguamento della struttura che sono stati avviati lo scorso autunno, grazie alla disponibilità della SD Pallacanestro Alghero e del suo fondatore Antonello Muroni, che gestiscono il Palamanchia da diversi anni. In questi giorni sono stati ultimati alcuni interventi con il posizionamento delle reti di protezione per gli spettatori e la riqualificazione dell'area esterna. In attesa di conoscere sede e data della finale regionale di Coppa Italia, anch'essa sospesa a causa pandemia, e dove i giallorossi sfideranno il San Sebastiano Ussana, la Fuzza all'Alghero affronterà un doppio turno casalingo. Sabato 29 gennaio al Palamanchia arriva l'Uristanese per l'ultimo match del girone di andata, mentre sabato 5 febbraio la Fuzza all'Alghero sfiderà l'Happy Fitness nella prima gara del girone di ritorno. Il crime è di grande soddisfazione e di fiducia per il futuro. Oltre al debutto nella nuova struttura, la Fuzza all'Alghero scenderà in campo con le nuove maglie dinanzi ai propri tifosi. I protocolli Covid vigenti permettono il raggiungimento del 35% della capienza, sarà quindi necessario prenotarsi ed essere muniti di green pass e di mascherina FFP2 per entrare ovviamente al palazzetto. Parliamo di tennis e del campionato invernale del Tennis Club Alghero che vola in prima serie. Infatti il Tennis Club cittadino festeggia la promozione nella prima serie del campionato invernale 2022-2023. I ragazzi di Capitan Gino Asara si sono imposti per 3-0 sul campo del Tennis Club decimo manu nel match valido come semifinale dei play-off di seconda serie. Vittoria in singolare per Cristiano Monti 7-5-6-0 su Daniel Lena e Michele Fois 6-1-6-0 a Dario Nicolini mentre in doppio Giorgio Alias e Alessandro Ivaldi hanno superato Spada e Di Martino. Successo importante per tutto il gruppo che è coeso. Nel match di domenica si sono imposti due più anziani, Monte e Fois, ma grosso merito va anche ai più giovani a partire da Alessandro Concu e Nicolo Serra che hanno giocato e vinto tanti match durante il girone. Domenica 30 gennaio dalle 9 sul green set di casa gli algheresi sfideranno il Tennis Club Porto Torres A per il titolo regionale di categoria. Ed è davvero tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito, vi lascio al meteo e vi auguro un buon proseguimento di giornata. a domani.